Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul vostro canale preferito Allora, oggi il che si fa? Innanzitutto siamo nel sesto episodio se un erro Non me lo ricordo, ne che ti sarà lasciato che si è scavato Nì pietra, nì roccia E nulla Non ci sa tutti sti popò di sardi Il che si compra? Non lo so, io non so il che comprare Dimensioni 3 perché credo sia la cosa più importante sinceramente Nulla di personale, poi si prende il contatore Non serve a una segaccia nulla però Così tanto per simpatia Poi profondità 3 Credo Massi, ma che cazzo ce ne frega a noi Allora Il che si fece l'altra volta? Si, si scavò Andiamo All'asta per i terreni Io non dove ero 58 Pocca soccola Allora noi andan... Da... Qui 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 Buaiolo Ma perché mi ha messo qui? C'è niente le tue corna Maledetto budello Badala Ma come è brutto Ma anche se può le fare un video C'è un sindaco Serissimo Un per nulla ciccione Ma ma... Ma ma... Ma ma... Io sono seca C'è la barba è salonale Sto fofò Dell'incoglionito Ma vai a cagare Via Let's go Olè Dì Rob-domante Ora le rodomate Saranno in grado di trovare Cioè per lì A qualsiasi profondità Oh Bella per me Si che I che Sardì d'andà Andiamo Forza Forza buaioli Forza Forza buaioli Oh Mi fate incazzare Oh quanto sia che bravo Io vado ora Quando buffate così No Eeeh una No Dimmi con l'ha preso Accidenta Cazzo No Seriamente Ne ho preso una Cioè in lina teorica Accidenta le sue corna Tutto nostro Mette anche un silo Di livello 3 Ora può potenziale il silo Due volte grazie di questa precisazione Senza di te Veramente Eeeh Ora si fa così Tra Atti Altri Rabdomanti E let's go Sì ma E buaiolo E come si fa razzi Se qui E' un bastenno Niente le tue corna Andiamo Venga però Sei proprio stronzi Oh Dovate Di qua Di qua Ganzo Però non mi ha sordi Per fare un tubo Per diventare La tua corna Forza Forza ma Forza ma Va Inca Sarola No ragazzi Vi giuro Vi Vi Guardo bene bene Io Tutto giù Bravi Lo fo Lo fo Lo fo Perché Perché Boh Mandati Fallo E l'ho fatto Semplice Easy Oh vai Qui E non c'è una sega Le Davvero Se trovi Roccia Non vi di che fo Meglio Non ve lo sappiate 1 e 11 Vai Ganzo Vai Altri Rabde Per i domanti Le Ma andava avanti Veloce Le Mi andrà un po' Pura a signa Ma che se Asciucco Patrimone Si avverisce anche La roccia Mi tocca Un velo Diretto Accidentale Tuorna Maledetto Ora se E tu aspetti Ganzo Dove sarà Ah Ovvero Se la K Ha il primo Corpo Dove Non è Piccinissimo Oioi 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 Il portafoglio No Basta Basta Buraiolo Quindole Ma come Cazzo Ma che Ah L'ho trovata Cazzo enorme Altri si Così Così Ragazzi Come si fa Guarda qui Mi Oh Mi fai scherzi Vi hardo bene bene Vi hardo per le feste Niente Le sue corna 3 67 Da qui 3 90 Ma se qui Sfrutto bene bene E fa 3 30 Anzi Che ganzo E chiudo qui E qui Giù di là Guarda che brutta Merda Eh Una mia picciola Sì Buona Ugo Qui E c'è Il roccia C'è C'è Il roccia C'è Ah Li spendo Sordi 1738 Ah no Ok Ma perché Se no Qui E Ragazzi Di alluniosa Che Posso fare Mi metterò Un altro Quanta razza Di petrolio C'è No Ragazzi È tutto Questi stronzi Fanno dei prezzi Di merda Che Gli devo Fa Un altro È una Cotta Ma dove Nini Ma io Non vedo Nulla Ma Fa Fa Un pochino Se il ganzo Ma Oh 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 ganzo Mi fa Incazzare Ma guardate Che che bastardi Oh Le tue Corna E Gli è finito Ma Dobbiamo Vendere No ragazzi Ti va tutto A vendere Quindici Le Qua Qua Quanto è Quella è quasi finita Nono male Dovendere Tutto a vendere Di là Inizia Se già Per il lot Luglio Io ne metto un altro Mi dubbio No 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 Che cazzo Fate No 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 Basta Basta Ma Sì sì Maremma buona lampesta La tragatta sudica Maremma incignata Accidenta le tue corna E buona Buona Ugo Vi dovevo muovere Io ragazzi più che andassodo Che posso fare No ragazzi Che fa No ragazzi Sono di gatto per davvero Giocando a Mende con 0,40 Dai li hanno finiti Petroglio non ce n'è più Finita Aspetta lo si No Ne ho ormai Esco di te Ho 5 silos Di livello 3 pieni Aspetta un prezzo buono Perché se no qui Le sali Sali Nini Sali E se no Non ti vendo Una segaccia nulla Tanto sotto l'uno Non ti vendo Una sega Vado a me Sali Rosso Vado Genzo Io Starei anche aspettando Accidenta le tue corna Tu sei uno stronzo Seriamente? No ragazzi No ragazzi Ok l'ultimo silos Sprecato un monte di osso Accidenta le loro corna Brutti budelli O la mamma Buo peore Dalla mattina Alla sera Andate a cacare Vin comunque io Però ragazzi Fatevelo dire Chiedete proprio degli stronzi Ma andate a cacare Voi Le vostre famiglie Vi buo di quello di osso E vi riservate Io non lo so Mi fanno vendare Alla fine Ho 0,60 Accidenta la tua mamma Alla lì Che lo piglia Proprio nel culo No io ragazzi Davvero Non so Non so Che dire Mi fate cacare Mi fate cacare A bestia Fate proprio schifo Ragazzi Io Mi vengo a tirare giù Mottoni Ah se butta giù Ogni osso Spacca tutto Ma Ma che devo fare Io davvero Non lo so Non so Che cacare A incazzare Ma chi è Anthony Stai cercando Un terreno ricco di protoglio Dammi le sue diamanti Splendenti E te lo indicherò Sulla mappa Questo ganzo E' tanta roba Di che Si fa così Diamanti Staccate Vigia Oioi sordi Però se non si fa così Questo qui Non ho completato Una segaccia nulla Stai indo a comprare due La buaiola Brutto Me la Brutto Me la Danna mia Me la peste La peste Gli è più bellina La peste me la fa venire Sono più contenta Guarda questa Nonnina di merda Fata Se ha il suo appello C'ha quattro Sei l'applicia Proprio esagonale Ma che cazzo Boh Ma la comprai quattro Poi Sono io Il buaiolo di turno Sempre buaiolo Di valapia Però Non ci Non ci imbrogliamo Beh una potta Badalà Badalà Uno Uno Due Tre E quattro E cinque E sei E sette E otte E nove E dieci Teni Teni Più One E due E tre E forre Teni E forre Fanno Forte fin Quattordici Quindi Quindi in tutto Si è completato Il 110 132 132 Per 300 No per i 100 Perché Perché no A meno che Non si faccia 132 Diviso 3 Ma io Ragazzi Non lo so Quanto fa 132 132 Diviso Si può fare Quindi 132 Diviso 3 Vai 40 Per 3 Fa 120 43 43% Di totale Si può Comprare In questo Giugno Di merda Comunque Tanto Finita Questa Specie Di Di Avventura A buo Pillon Si Ci sarà Una specie Di continuo La modalità Avanzata E Attica E botto A tirare Il microfono Dopo aver sentito Si Non è stata Perpa mia E Nulla Ci sarà Questa Specie Di cosa Avanzata E Ci diremo Altri Personaggi O Forse No Non lo so Sono a sega io Me lo ricordo mia Che è questo Sul cima Sono a sega io Quindi ragazzi Come fa il buon Vecchio G Quindi ragazzi Ci possiamo Salutare Purtroppo Siamo arrivati A fine Di un video Di merda Proprio Un video Di merda Non ho fatto Solo uno Ragazzi Perché comunque È durato Maremma Buaiola Se è durato Ecco Buaiola Devo aspettare Tutto l'anno Non ho neanche venduto Tutto Accidentale Loro Corna Ma quando Sono Famiglia Gli Dino Eh Che Lavorava 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 Una sega Va a cacare Ma sono A sega io Lì Della Left Inc Della Right Inc Ma Vagina A cacare Tutti Va Niente Allora Le loro Corna Boh Tanto Mi dispiace Tazzi Ma Ci tocca Salutarci Niente Dai Spero Che questo Video Vi sia Fiasciuto Anche Se Insomma Maremma Buaiola Non è che Non è che si sa Fatti Sarti Gioia O Quei abdomanti E la via Sono più lenti Della Minonna Oh che mi va Ancora Un decilometri Sono più veloci Allora Trovai Petrolio Cazzo Boh Vabbè Noi ci vediamo In un prossimo Video Nel settimo Sperando Die Corna Facciamo Discorso A bischio Di ciucco Nulla Ripeto ancora Spero il video Vi sia piaciuto Voi lasciate like Iscrivete Vi commentate Perché Che caso Vi pare Guardate Mandate Ciacomo Che vi pare E nulla Ci vediamo Nel prossimo Video Ciao A tutti